Ciao a tutti, benvenuti su Cosmo Channel. In questo video vi faccio vedere come si configura un rotary a mandrino. E diciamo che vi parlo anche di questo rotary che mi è stato inviato dalla Ortur, quindi sarà un doppio video, video recensione con video configurazione. Tutto ciò che vi dirò oggi sarà riferito non solo a questo mandrino, cioè la parte di configurazione non varrà solo per questo mandrino, ma vale per tutti i mandrini di qualsiasi marca e modello purché siano compatibili con queste macchine, ma soprattutto è valido anche per i classici rotary a rullo. Quindi se voi avete un rotary a rullo potete tranquillamente guardare questo video. Vi parlo velocemente di questo rotary a mandrino della Ortur. È un rotary che può essere, a differenza di tanti rotary, devo dire la verità è fatto veramente bene perché può essere ruotato di 180 gradi praticamente. È un rotary che ha appunto un mandrino come se fosse un tornio, quindi con delle pinze che si allargano e si ristringono, con vari accessori per stringere vari tipi di materiali che vanno dai bicchieri a delle sfere di legno, a le borracce, anche delle tazze da latte praticamente con il manico, cosa che è impossibile da incidere con questo qui perché c'è il manico che rompe le scatole e invece con questo sistema invece è possibile incidere anche su queste tazze. E una cosa che si può incidere con queste, non con quello a rulli, sono gli anelli. Potete incidere degli anelli che siano in acciaio, in alluminio, si possono incidere, vi faccio vedere poi come. E a differenza del rotary a rullo che ha bisogno di una superficie che sia perfettamente piana ai rulli, con questo rotary è possibile mettere per esempio un bicchiere che non ha una forma a cilindro ma una forma magari che finisce un po' più stretta, si fissa qui, si ruota il mandrino per posizionare parallelamente all'asse X la superficie da incidere. Come vi dicevo con questo mandrino vengono dati vari accessori che naturalmente vi faccio vedere comunque dopo, vari cavi per collegarle a tutte le macchine e in più ci viene dato questo supporto che serve per appunto bloccare e far ruotare un cilindro per esempio per non farlo muovere durante l'incisione. Sempre nei kit ci vengono date tre aste che grazie alla parte finale è possibile incidere su degli anelli, è fatta apposta per incidere sugli anelli. Vi faccio vedere come si utilizza. Questo mandrino è compatibile con praticamente tutte le macchine grazie anche al fatto che ci vengono dati vari tipi di cavi con vari tipi di adattatori, io infatti ho dovuto usare un adattatore per utilizzarlo con la Enjoywood, state tranquilli, diciamo che al 99% questo rotary è compatibile con la vostra macchina. Non utilizzerò la Hortur Laser Master 3 con questo rotary perché purtroppo tra tutte le cose che ci vengono date non ci vengono dati i piedini per alzare la macchina perché giustamente ogni macchina ha i suoi piedini. Hanno pubblicizzato tantissimo questo rotary facendolo vedere al lavoro con la Hortur Laser Master 3 ma non inviano appunto nessun tipo di piedini e io avendo il rotary dell'Atom Stark che è 100% compatibile con questa macchina, con quel rotary ci vengono dati i quattro piedini per usarli con quella macchina che sono compatibili al 100% con la Enjoywood. Quindi utilizzerò questa macchina con la Enjoywood. Andiamo a vedere cosa c'è all'interno della confezione, naturalmente vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un like e attivate pure sta benedetta campanella. Andiamo! Cosa troviamo all'interno della confezione? Troviamo il corpo principale, tutto in alluminio, forse questa parte è in plastica. Troviamo un jig che si mette qui che serve per bloccare il pezzo che sta rotando in modo tale da non farlo oscillare. Troviamo tre ganasce a scalino, tre ganasce invece un po' più larghe per prendere degli oggetti molto grossi, le viti per bloccare queste ganasce, un metro da sarta per prendere il diametro del nostro oggetto che dobbiamo lavorare. Questi sono degli adattatori per far funzionare praticamente questo rotary con tutti gli incisori laser, a prescindere da come sono collegati i loro stepper, quindi se vedete che non funziona con il vostro laser, inserite o la o il B e praticamente funzionerà. Una chiave a brucola, delle vite a farfalla che servono per bloccare in posizione il mandrino, ce n'è uno da questa parte e uno da questo. I due pezzi di ferro che servono per bloccare il mandrino, si montano così. Questi sono tre perni che possono essere utilizzati per bloccare i nostri oggetti ma soprattutto servono per bloccare gli anelli, quindi per incidere gli anelli. Comunque vi faccio vedere perché ho acquistato un bel po' di anelli. Il connettore principale, quindi il cavo di connessione principale e un altro cavo sempre di connessione per utilizzarlo con l'aufero o con la ortur o con le vostre macchine. Il manuale che non è in italiano è una bella scatolina per riporre tutto quanto. Andiamo a vedere come si usa. La prima cosa da fare è avvitare questi bulloni a farfalla che servono per bloccare in posizione il mandrino e scegliere che tipo di morsa installare. Possiamo usare la parte centrale per bloccare dei pezzi come se fosse un tornio. Voglio incidere qualcosa su questa borraccia, quindi utilizzerò probabilmente le ganasce larghe in modo tale da prendere un bel po' di porzione di questa borraccia anche perché voglio incidere esattamente al centro. Quindi mi vado a montare queste ganasce. Diciamo che posso montarle ecco così, questo è il massimo oppure un po' più vicine. diciamo che lo mettiamo qua e vado a stringere. L'operazione preliminare per utilizzare questo rotary, comunque tutti i rotary a prescindere che siano a mandrino o a rullo, è quello di recarsi su, io utilizzo light burn però è possibile anche usare laser grbl. Connettere la macchina, cerchiamo su modifica, impostazioni macchina, andiamo a leggere le impostazioni caricate sul controller della macchina e andiamo a disabilitare gli hard limit e il ciclo di homing. Quindi $22 e $21 li andiamo a disabilitare tutte e due e andiamo a scrivere questi comandi. Ok. Oppure se usiamo laser grbl basta inviare il comando $21 uguale 0 invio e $22 uguale 0 invio. Scrivendo $$ andiamo a vedere $21. Eccolo qui. $20, $21, $22, $0. Quindi è stato registrato. Naturalmente questa procedura va fatta solamente se gli hard limit e il ciclo di homing è abilitato. Se la vostra macchina non ha i microswitch per l'homing naturalmente non lo dovete fare. Perché bisogna disattivare il ciclo di homing e gli hard limit? Perché se sono abilitati la macchina per azzerare gli assi deve necessariamente effettuare un ciclo di homing sapendo appunto che è abilitato e, avendo staccato noi lo stepper per muovere l'incisore laser sull'asse Y, questo non si muoverà, non effettuerà mai il ciclo di homing sull'asse Y, facendoci apparire un bel messaggio di errore che blocca tutta la macchina. Quindi ricordatevi, è fondamentale disattivare gli hard limit e il ciclo di homing. Ricordatevi, una volta che avete finito di usare il vostro rotary, di ripristinare i due parametri, quindi dollaro 21 e dollaro 22, riportandolo con un valore di 1, quindi attivando queste funzioni. Adesso posso fisicamente installare il mio rotary. Come faccio? Generalmente si collega sulla linea dell'asse Y, quindi questo è lo stepper dell'asse Y, stacco la sua alimentazione e ci collego il cavo che va dal rotary al connettore che è maschio. Questo qui è maschio, questo qui è femmina e tutte e due fanno l'amore. Lo colleghiamo così e vediamo se funziona. Perché? Perché ogni macchina ha la sua sequenza di cablaggio. Se non dovesse funzionare, comunque vi ricordo che abbiamo due adattatori. Vediamo un po'. Quindi che cosa faccio? Naturalmente adesso Lightburn dirà che, attenzione, il ciclo di homing non è stato abilitato nell'impostazione di GRBL perché l'abbiamo disabilitato. Questo ci dà questo errore perché abbiamo abilitato l'homing automatico all'avvio della macchina. Andiamo su periferiche, apriamo la nostra macchina, andiamo su next, next, next e disabilitiamo portare automaticamente il laser nella posizione iniziale e clicchiamo su finish. Ecco qua. Una volta installato proviamo i movimenti, spostiamo l'asse X che funziona perfettamente, ce lo spostiamo. Questo dovrebbe ruotare, quindi andando a muovere l'asse Y dovrebbe ruotare. Ok, sta sgranando. Ciò vuol dire che il collegamento non va bene, non è compatibile. Cosa faccio? Scollego il connettore, proviamo con l'adattatore A. Vediamo se funziona. Quindi collego il maschio nella femmina e questo lo collego qui. Ok, come vedete ho inserito l'adattatore tra cavo di alimentazione dello stepper e il cavetto che alimenta il rotary. Vediamo un po' se ruota. Perfetto, ho azzeccato alla prima botta. Una volta che abbiamo modificato tutti i parametri GRBL bisogna andare a impostare il rotary sul lightburn. Vado sul laser tool, imposta rotazione e queste sono le impostazioni del nostro rotary. Dobbiamo inserire che è un mandrino, quindi non il rullo, ma bensì il mandrino. Abilitiamo la rotazione che comunque abbiamo già abilitato qui sotto. Mirror output to rotary. Potrebbe succedere che il nostro progetto venga specchiato. Per non specchiare il progetto e lavorare quindi con un progetto specchiato dove non riusciamo a leggere niente, possiamo tranquillamente lasciare il nostro progetto così come è abilitare mirror output to rotary per invertire il rotary. Io utilizzo il rotary con il motore a sinistra, quindi devo abilitare mirror altrimenti mi incide specchiato. Quindi io lo abilito. Comunque dobbiamo fare un po' di prove per vedere se incide bene. Assi di rotazione. Nel mio caso sto usando l'asse Y. Se noi abbiamo un asse Z, un asse A, quindi magari delle macchine un po' più complesse. Le nostre non sono complesse quindi sempre asse Y. Adesso millimetri per rotazione. Ortur dichiara che questo rotary va utilizzato con 96 o 120 in base alla macchina. Dalla mia esperienza dobbiamo utilizzare 120 perché 96 non funziona tanto bene con le macchine che non sono Ortur. Quindi se non abbiamo delle macchine Ortur lasciamo 120. Diametro dell'oggetto io l'ho già inserito è 77,840. Prendo un bel calibro, semplice, vado a misurare il diametro dell'oggetto che devo incidere e lo vado ad inserire qui. Lightburn mi dà una circonferenza. Che cosa faccio? Mi copio la circonferenza e chiudo per adesso questa finestra. Mi vado a creare un rettangolo che abbia l'altezza pari alla circonferenza che mi ha dato Lightburn e l'ho creata. Questa è una cosa che io faccio con tutti i materiali per non sbagliare. Naturalmente se voi non dovete incidere tutta la circonferenza ma solo un piccolo logo non c'è bisogno di fare tutta questa crocco, di mettere del nastro carta per farvi, vi faccio vedere che cosa dovete fare. Naturalmente un piccolo nome che sia di 3 cm o 3,1 cm non ci cambia la vita. Se invece dobbiamo posizionare esattamente lungo tutta la circonferenza del nostro oggetto dobbiamo purtroppo crearci una maschera che sia della circonferenza esatta del nostro oggetto. Quindi che cosa faccio? Mi metto un po' di nastro carta lungo tutta la circonferenza e me lo vado a fissare qui. Metto a fuoco il laser, lo collego perché l'ho scollegato che è un po' rumoroso, ecco qua. Adesso devo posizionare l'asse Y manualmente naturalmente con il fascio laser che sia parallelo all'asse di rotazione. Come faccio? Vado su sposta, attivo il laser e me lo posiziono al centro. Voi non lo vedete, io lo sto vedendo ed è perfettamente al centro rispetto all'asse di rotazione. Fatto questo mi imposto la posizione attuale con l'origine del lavoro centrale. Vi consiglio di utilizzare queste impostazioni per non avere problemi. Una volta fatto questo andiamo a fare un frame anche per vedere come è posizionato il nostro oggetto. Come vedete da questa parte è un po' più alto. Quindi me lo vado a spostare per bene a mano. Perfetto, così ruota bene e mi vado a incidere questo rettangolo. Ma deve essere un'incisione veramente molto leggera. Ecco un 30%, questo è un 20 watt con 1000 millimetri al minuto. Va benissimo, si deve intravedere l'incisione. Andiamo su ok e vado. Ok, stacco il laser un attimo se non fa troppo rumore e andiamo a controllare che la linea di giunzione del rettangolo, quindi l'inizio e la fine coincidono. Come vedete io sono stato fortunatissimo, le due linee coincidono. Quindi si vede una sola linea. Che cosa succede? Se troviamo due linee così, quindi l'inizio inizia qui ma finisce qui, dobbiamo controllare se ci sono queste due linee. Se ci sono uno vuol dire che la linea è andata oltre, quindi ha scavallato anche l'altra linea. Quindi dobbiamo andare a diminuire la dimensione del nostro rettangolo perché il nostro rettangolo viene inciso troppo largo. Se invece non abbiamo queste due linee vuol dire che l'inizio e la fine non coincidono perché si trovano troppo lontani. Allora che cosa andiamo a fare? Andiamo ad aumentare le dimensioni del nostro rettangolo di una distanza, di una lunghezza pari a questa distanza. Quindi io mi prendo il mio bel calibro, vado a misurare. Ok, sono distanti, facciamo ecco, 6 mm. Quindi se sono distanti 6 mm, imposto l'altezza più 6 mm. Se invece è troppo lungo di 6 mm, vado a togliere 6 mm dalla mia altezza. Semplice. Adesso che sono sicuro che la mia macchina è calibrata perfettamente con questo diametro, vado a incidere. Adesso che abbiamo il nostro rettangolo che ha l'altezza giusta, lo posso andare ad allargare della lunghezza pari a quanto deve essere larga la nostra incisione. Diciamo che voglio incidere per un 10 cm, quindi voglio fare una bella incisione lunga, anche forse di più. Facciamo ecco 12, vado a impostare qui 120. Adesso imposto questo rettangolo come T1 in modo tale che non mi viene lavorato e qui dentro ci vado a mettere il disegno che voglio mettere. Facciamo il frame. Ok, non sbatte. Perfetto, così dovrebbe andare. Ha finito. Andiamo. E questo è il risultato. Non so se si vede, è uscito molto molto bene. Peccato per la prima prova che ha rovinato un pochettino il tutto. Mi piace il fatto che si vede e non si vede. Infatti ho preferito non riempire i caratteri. Comunque questo è il risultato. Adesso vado a incidere un po' di altre cose. Per incidere gli anelli basta infilare i supporti. Queste asticelle sono tre. Ci sono vari punti dove inserire. Io ho degli anelli non molto grandi quindi mi basta questo qui. Ok. E' ora di vedere tutti i risultati. Questa è l'incisione su una tazza in, lo so, in ceramica smaltata. Guardate che bella scritta, come è uscita bene. Qui devo togliere l'adesivo del nastro che è rimasto incollato. Comunque questo è il risultato. Vi faccio vedere. Questa è uscita benissimo. Veramente molto molto bene. Non ho mascherato assolutamente questa superficie perché comunque è una superficie smaltata e viene tranquillamente incisa. Vi faccio vedere il vetro. Come sapete il vetro si può lavorare. L'importante è scurire questo vetro. Lo si può fare con, come avete visto, con un pennarello. Ma diciamo che il risultato migliore sia verniciando la superficie di nero e poi togliendo l'eccesso della vernice con dell'acquaraggio. Questo è il risultato. Vediamo se si vede. Eccolo qua. Questo è proprio inciso. Naturalmente devo togliere ancora un po' di colla della mascheratura che avevo fatto per le prove. Gli anelli. Questi sono degli anelli in acciaio, inox. Vediamo, vediamo se lo trovo. Eccolo qua. Devo girare. Mi sono fatto un anello con la scritta Cosmo Channel. Un anello che mi sta tra l'altro. Adesso Cosmo Channel ha anche un anello. Ho provato incidere quest'altro anello in... No, non è in oro, eh. Attenzione. È sempre tipo acciaio verniciato. Non lo so, anodizzato. Questo è il risultato. Dovevo fare forse la scritta un po' più piccola. Comunque è una scritta indelebile. Quindi probabilmente col tempo va via, eh. Perché non è un'incisione molto profonda. Come si poteva fare con il modulo laser? Potevo e sicuramente ho tantissimi ancora anelli da incidere. Sicuramente utilizzerò il mio modulo laser a raggi infrarossi per incidere sugli anelli. Perché secondo me sia un risultato migliore. Però visto che in tanti di voi non hanno un modulo laser a raggi infrarossi, ve l'ho fatto vedere con un laser del genere. Vi faccio vedere questo risultato. Forse sono andato un po' troppo a bassa potenza. Comunque forse anche il materiale molto rovinato, come vedete. Comunque ha inciso senza mascherare. E qui mi è uscito benissimo. Peccato che all'inizio ho sbagliato. Qui ho posizionato il laser troppo vicino alle pinze del rotary. Mi ha fatto un po' di difetto. E questo è il risultato. Mi piace veramente tantissimo. Veramente peccato per questa striscia in più. Ma il risultato è ottimo. Anche questo non l'ho dovuto mascherare perché è acciaio inox. Un consiglio che vi do è scrivere qui sopra la parte destra. Quindi se voi preferite usarlo in questo modo qui scriverete sinistra. Se lo usate in questo modo scriverete destra. Questo perché? Perché in base a come viene messo dovete specchiare l'immagine. Dovete capovolgere l'immagine. Quindi è meglio ricordarsi sempre in che posizione viene messo in modo tale che l'immagine viene posizionata sempre nello stesso punto. Non fate casini come ho fatto io con questa qui. Questa qui è uscita storta. Peccato che me ne sono accorto troppo tardi. Però vabbè. Era una borraccia vecchia. Però mi dispiace. E niente per questo video è tutto. Vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un like, attivate la campanella e niente. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!